Un amore in biblioteca Le tue dita, le mie, su quei fogli assetati di carezze, con la penna arnese di tortura. Morboso il contatto, arcana l'atmosfera, sospesa nel silenzio delle biblioteche, chiusa e pressata come una rosa, appena sbocciata su pagine macchiate dagli umori di quel fiore, schiacciato ancora fresco. La trama avanza, ma è sbilenca sulla mente. Tu professore ed io la tua alunna. La bramosia si incapsula di polvere e s'arrotola sulle pergamene mentre preparo le ultime pagine della tesi. E all'improvviso un bisbigliare fitto dolcissimo sulle carte inumidite dal sudore. Da quanto tempo mi sogni? Fin quando mi penserai ancora tra le tue carte. E quello scivoloso avvicendarsi delle labbra, quel denudarsi di anime ancora incerte, se abbandonarsi completamente all'altro. Cosa sono i sentimenti a cinquant'anni? La tua voce piano piano, la mia è appena un soffio. Per favore non chiedermi sesso. Chiusi i bisbigli, in catene di consapevolezza, chiusi e riposti in uno scaffale della biblioteca, col petto mio giovane pressato dalla polvere e il bisogno d'amore che s'affanna nella speranza folle che domani potremmo avere la stessa età e la stessa voglia.